All'altro giorno è fuggito, non mi viene con qui, non è fuggito. Non mi viene con qui! Ma la mostrrite lui avrebbe preparato a fare, non mi viene esplosite? Non mi viene esplositeогодisième cosa! Eeeh, eeeh! Eeeh, scias là ! Vai qui, quel è? Siaspera, siaspera ¿vereti quando gli vuoi prosi che vanno ? Siaspera no? Comate Molly graviі le costruites doni! Grazie.